Buongiorno a tutti e benvenuti a Masterchef Italia Rosio. Per preparare la pasta della pizza abbiamo pensato di impastare il tutto a mano. Passiamo il lievito nell'acqua a temperatura ambiente e iniziamo a sceglierlo per bene. Per fare l'impasto occorrono 200 grammi di farina a manitoba e 300 grammi di farina 00. Versate l'acqua e il lievito un po' alla volta mentre impastate con le mani. Continuiamo ad impastare con le mani. Mentre impastate con le mani aggiungete un cucchiaino di sale. Intanto mettete tre cucchiai grandi di olio. Dopodiché trasferite l'impasto sul piano di lavoro e spargete un po' di farina. Dopodiché impastate affinché non diventi un impasto omogeneo e liscio. Impastatelo in forma rotonda. Poi l'abbiamo lasciato riposare per circa due ore e questo è il risultato. Adesso la stendiamo accuratamente. Andiamo a infornarla. Andiamo a stendere la passata di pomodoro sul nostro impasto. E ora aggiungiamo un pizzico di sale. E ora... La mozzarella! Ora la inforniamo a 200 gradi per 20 minuti. Buon appetito! Ciao! Grazie a tutti. La pizza è un piatto di origine antichissima, conosciuta anche dagli Etruschi. L'aggiunta del pomodoro all'impasto di farina avvenne nel XVI secolo. La pizza Margherita è una creazione abbastanza moderna. La sua nascita risale alla visita a Napoli della regina Margherita di Savoia nel 1889. Il pizzaiolo Raffaele Esposito, chiamato alla corte per l'occasione, fece una pizza con i colori della bandiera italiana. Rosso con la salsa di pomodoro, bianco con la mozzarella e verde con il basilico. Quando la regina, estasiata, chiese al pizzaiolo come si chiamava questo nuovo tipo di pizza, lui rispose Come l'è questa Margherita Margherita!